vetrate scorrevoli con zanzariera ciao sono william bisacchi di infissi bisacchi dal 1973 ci occupiamo dei fissi per abitazioni private con il sistema bisacchi e quando parliamo di vetrate scorrevoli spesso parliamo di dimensioni molto molto grandi dove la zanzariera spesso è un extra fuori misura quindi è difficile da fare e a volte è anche impossibile da fare inoltre quando si vanno in queste vetrate così grandi a volte panoramiche quindi minimale molto sottili la zanziera va anche un po rovinare l'estetica di questa vetrata e per poter ottenere dei risultati soddisfacenti è necessario individuare delle soluzioni diverse dallo standard quindi con degli incassi totali o con delle versioni motorizzate con barra maniglia nascosta molte soluzioni difficili magari anche da trovare dal comune rivenditore è difficile anche da farti consigliare quando chiedi un preventivo perché dall'altra parte c'è un evidente conflitto di interessi proprio per questo motivo e soprattutto perché non posso aiutare le persone di tutta italia con la bisacchi perché lavoriamo principalmente nelle province qui della romagna ho ideato un servizio di consulenza dove posso aiutarti e guidarti nelle scelte migliori da fare nelle vetrate scorrevoli con la zanzariera negli infissi dell'isolamento termico tutto quello che serve per acquistare nuovi infissi senza prendere fregature però affrettati perché ho dedicato a questo lavoro solo quattro ore alla settimana perché durante tutta la settimana devo fare i lavori che normalmente facciamo come bisacchi e per fortuna sono sono tanti su uspn di più vai su www.blogbisacchi.it e richiede la tua consulenza ciao